Ciao a tutti, benvenuti, siamo per finire anche questo ennesimo convegno e penso sia andato tutto bene, avete ascoltato questi bravissimi illustri relatori, spero vi siano piaciuti. Adesso passiamo a due premiazioni, noi ci teniamo molto, sono due persone che hanno lavorato per anni al nostro fianco in modo volontario, sono i gestori del forum, sono Annina Cavallaro e Giulio Alloa, sono pregati di venire qui sul palco. Loro hanno gestito questi forum dove ci sono almeno 100.000 messaggi che devono controllare tutti i giorni. Premia la nostra referente del Friuli Venezia Giulia, Orietta Turco, a Giulia Alloa. Premia sempre Orietta, Anna Cavallaro. Grazie. Buongiorno a tutti, questo è un fuori programma, credo che pochissimi di noi sanno che cosa sto per fare. Innanzitutto devo leggere una frase famosa di Einstein. Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare finché non arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. Per noi lo sprovveduto è il nostro Presidente, Ivan Gardini. Ivan, che da sempre è impegnato a perseguire le finalità di solidarietà e sociale, con un grazie per l'impegno profuso e per averci regalato la consapevolezza di non essere soli. Gli amici di EPAC. E vorrei solo aggiungere una cosa, io quello che ho fatto non l'ho certo fatto da solo, l'ho fatto in compagnia di questi splendidi ragazzi, l'ho fatto in compagnia dei medici che avete qui ascoltato oggi, quindi io posso averci messo le idee, posso averci messo le energie, posso avere, ma da soli non si va da nessuna parte, quindi l'applauso va a tutti i ragazzi di oggi. però non ho finito, ho ancora una frase, questa volta di Georg Henkel, niente di grande è stato fatto al mondo senza il contributo della passione. E chi può essere più passionale di Massimiliano Conforti. Lui che con passione e impegno ha portato un esenziale valore aggiunto alla nostra associazione e con la sua umanità e sostegno morale ci ha aiutato a superare momenti difficili. Grazie di cuore. Grazie. 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 Grazie.